Pronta? Credo sia arrivato il momento di fare il grande passo. Ruby ha deciso di sposarsi. Non so se sono disposta ad arrivare a tanto. Ma con chi? Tanti anni fa tua madre fece un incantisimo a mio marito. E adesso tu hai fatto lo stesso con mio figlio. Riuscirà a trovare la felicità. Mia carissima sorella gemella. Pearl sarà affidata alla custodia dei nonni. E a quale prezzo? So quello che hai fatto, Ruby. Dall'omonimo romanzo di V.C. Andrews Dirò a tutti la verità, meno che tu non mi dia ciò che voglio. Continua la saga dei Lendri. Lo giuro. Ruby Lendri. Il destino di Ruby. Questa sera alle 21.20. Rai 2.